Il 7 luglio all'Area Sport di Monticchio torna alla quinta edizione del torneo 2 contro 2 di basket maschile e femminile. Quest'anno prenderanno parte al torneo ben 20 squadre maschili e 8 femminili. I numeri sono sempre più in crescita anno dopo anno. Ormai quello dell'Area Sport rappresenta l'unico esempio in provincia per questo sport. È diventato un punto di riferimento per molti giocatori aquilani, ma anche per quelli di fuori regione. Sabato 7 luglio un'intera giornata dedicata al basket. Le squadre potranno essere formate da un minimo di due giocatori per arrivare ad un massimo di tre. Campione in carica per la categoria maschile La Francia, composta da Antonello Ricci, Cheminitenza Rebì e Quirino Jezzi. Per le donne campionesse in carica Sara Ambrosio, Susanna Lopaccio e Valentina Corradini. Ad organizzare la manifestazione, come sempre, Simone passa cantando Andrea Rizzo e Valerio Ippoliti. Il torneo si svolgerà su due campi, uno all'aperto e uno al chiuso. C'è anche un'apposita pagina Facebook e una Instagram dedicata al torneo. Basta cliccare Area Sport e poi scritto 2VS2. Per la seconda volta sarà presente anche la squadra di Special Olympics Team L'Aquila. Un momento importante anche per socializzare. Ci saranno squadre che vengono ormai dall'Aquila, Pescara, Rieti, anche da Roseto. Un appuntamento fisso, insomma, è da non perdere.